Musica Siamo alla trentesima edizione della Tare Cup, siamo qui per l'estrazione della Coppa Italia Non ci sono teste di serie, le 16 squadre si affronteranno tra di loro Ad aiutarmi nel percorso di estrazione delle squadre abbiamo alla mia sinistra Elena, alla mia destra Carola Possiamo iniziare con la prima squadra ad essere estratta, prego Carola con la prima formazione di questa Coppa Italia Vediamo che la prima formazione ad essere estratta è L'Atletico di Madrid di Moccia e Palanca che si trova nella zona di metà classifica Dovrà affrontare il Lione, il Lione che sta giocando un gran campionato con Spagnolo già a 35 reti Il Lione di Capitano Avato La terza squadra della seconda partita Porta il nome del Paris Saint Germain Paris Saint Germain che si trova anche a metà classifica Il Paris Saint Germain di Lorenzani e di Gazellone La Roma, la Roma di Sabbioni, gran partita questa Il Paese Saint Germain quindi affronterà la Roma di Sabbioni ma anche la Roma di Trovato La Roma che non ha quest'anno Tamaro per un grave infortunio Terza partita Vediamo l'urna ci regala il Tottenham Tottenham, una delle squadre che sta disputando un buon campionato Si trova nella seconda parte della classifica Il Tottenham-Celsea Il Chelsea invece si trova in ultima posizione Non è partito alla grande in questa stagione Ma sicuramente potrà rifarsi anche in Coppa Italia A essere estratta per la quarta partita è il Borussia Dortmund di Montilla Borussia Dortmund Passano gli anni ma c'è sempre Contro il Galatasaray Quindi Borussia Dortmund e Galatasaray sulla carta Una squadra che ha già vinto la Tare Cup Contro una delle squadre nuove di questa edizione C'è il porto di Pozzi Come quinta squadra Il porto nella parte di sinistra della classifica Tra le prime otto del campionato Contro l'Arsenal Che non se la sta passando bene in questo periodo Perché si trova in quarta posizione Dopo un inizio poco brillante La sesta formazione è il Barcellona La sesta partita Undicesima formazione è il Barcellona Contro Il Real Madrid di Girolami Una squadra veloce Che però deve migliorare Nella tenuta della gara Nei 50 minuti Ultime quattro formazioni ad essere estratte L'Ajax L'Ajax di Zucchi E di Anni Baldi Un buon campionato fin qui Si è rivisto un buon Rossetti Contro il Manchester United Quindi l'Ajax dovrà affrontare lo United Ultima partita da estrarre Sapienti mani di Carola Ci dicono Newcastle La prima della classe Di Poma Basili Contro il Manchester City Anche questa Una gran partita Perché si affrontano La prima contro la terza La squadra di Abbiamo detto Poma e Basili Contro la squadra di Curro Riepiloghiamo quindi il tabellone Atletico Madrid Lione, PSG, Roma Tottenham, Chelsea Borussia Dortmund Galatasaray E poi abbiamo Porto, Arsenal Barcellona, Real Madrid Ajax, Manchester United Newcastle, Manchester City Questo è il tabellone Nella Coppa Italia Tare Cup Trentesima edizione Ringrazio Elena Ringrazio Carola Buon proseguimento di giornata A tutti voi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti